I Walker sono veicoli di ultima generazione, armi da guerra colossali, capaci di camminare come feroci bestie metalliche. I Walker sono il nucleo dell'armata terrestre del malvagio impero. Poco altro spaventa così tanto i nemici dell'impero. Uno dei Walker più temibili è la T.A.T. Alto come un palazzo, è abbastanza grande da trasportare un intero plotone di assaltatori, tanto resistente da travolgere le linee nemiche e così potente da distruggere anche le strutture fortificate più resistenti. Una variante ancora più grande è l'All-Terrain Armored Cargo, che trasporta grosse cariche esplosive. Se volete l'agilità, c'è il piccolo ma più manovrabile A.T.S.T. Tutti questi Walker derivano da quelli usati in precedenza dalla nobile repubblica nelle guerre dei cloni, gli A.T.T.E. a sei piedi e gli A.T.R.T. Il feroce primo ordine trasformerà la T.A.T. nel più potente A.T.M.6, così chiamato perché trasporta il letale cannone Mega Caliber 6 sulla testa. Potenza o agilità? Quale Walker sceglieresti?